Perché cito Fransat? Cito Fransat perché oltre al 4K Fransat è un fiore all'occhiello di Eutelsat è una piattaforma che viene interamente operata da Eutelsat che distribuisce in Francia i canali del digitale terrestre ed è centrale non soltanto perché ha anche aggiunto contenuti in 4K prodotti anche con France Television e con gli altri partner che normalmente anche alimentano il canale Swatbird ma anche perché ha dato un contributo significativo ad un tema che viene anche discusso in questa sede che è quello dell'interattività, del broadcast broadband ibrido, l'HBBTV Fransat è una piattaforma aperta, orizzontale sul nostro satellite 5 gradi ovest e su Fransat abbiamo lanciato un portale in HBBTV con anche companion device, con iPad che può essere navigato anche con iPad e che quindi rappresenta un punto di ingresso per tutti gli operatori che stanno dietro, che quindi sono gli operatori tradizionali free principalmente francesi la dimostrazione principale è il fatto che il satellite si integra con le nuove tecnologie, con le tecnologie broadband che non vede quindi come una minaccia ma che vede come un'opportunità si sposa e si accompagna e viaggia insieme alle nuove tecnologie le nuove tecnologie quindi non vengono vissute come una minaccia da noi operatori satellitari ma come un'opportunità per dare nuovi servizi e per sottolineare anche di più la centralità del satellite grazie 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 grazie